Ciao, sono Elisa, voglio raccontarvi questa giornata bellissima, meravigliosa, ricca di energia, un cerchio di tantissime persone che hanno fatto un bel cambiamento da quando siamo arrivate a quando abbiamo finito questa giornata, siamo tutte più ricche, lo consiglio se si ha il desiderio di fare una crescita, piccoli passettini, andare oltre e cercare la propria luce interiore. Ciao!